Ciao! Oggi come leggete dal titolo finalmente tornano i Get Ready With Me in cui proviamo novità make-up. Sono riuscita ad accumulare un po' di cosine per poterci fare un video dedicato e io non vedo l'ora, davvero amo questa tipologia di video. Inizio dalla base con questo campioncino che è il By Terry Brightening CC Serum nella colorazione 03 Apricot Glow, ho trovato il famosissimo primer illuminante di By Terry che costa un rene e mezzo perché siamo all'incirca sui 70 euro, infatti non penso che lo acquisterò in formato grande anche se magari mi rapisce il cuore, non lo so, però davvero costa troppo. Io ho avuto l'opportunità di provarlo tramite il sito di Douglas o Pinalli che me lo facevano scegliere come campioncino durante un ordine e siccome appunto ho sentito tante opinioni di questo prodotto e siccome comunque ero molto curiosa nel testarlo, ho preso l'occasione al balzo, si dice così? Non lo so, comunque lo proviamo insieme. Ok, è fatto in questo modo, non so se voi lo vedete dal video. Il profumo sa tantissimo di rosa e a me non fa impazzire la rosa. Allora, questo è l'effetto. Devo dire che è un aspetto più che illuminante, luminoso, radioso, molto naturale come tipo di luminosità. Si vede ma non è eccessivo. Mi immaginavo qualcosa di un pochettino più evidente anche perché dobbiamo tenere conto che comunque il mio tipo di fondotinta ha una coprenza medio-alta e con così poca luminosità va a finire che una volta applicato fondotinta e fatta la base non si vede più niente di questo primer di By Terry. Bisognerebbe utilizzarlo insieme a un fondotinta estremamente naturale, estremamente leggero, cosa che la mia pelle non si può permettere al momento specialmente. Quindi, carino come effetto perché appunto si vede che c'è qualcosa, che la pelle è diversa rispetto a prima ma non mi viene da acquistare la full size, per fortuna. Però sì, mi immaginavo qualcosa di più. Comunque, come fondotinta ho questo qua di Bourjois, spero si dica così, che è l'Eltimix Foundation, il colore che io ho preso è il numero... non c'è scritto perché mi sa che era sulla plastichina, che c'era sul tappo ma che ho tolto. Dovrebbe essere il 51 ma appunto ve lo scriverò meglio nell'info box. E in teoria questo fondotinta dovrebbe essere abbastanza leggero, però vediamo. È la prima volta che lo provo. Sapete che mi piace moltissimo il fondotinta più opaco di Bourjois. Vi lascio nelle schede qui in alto il video che vi avevo fatto a fine 2019, la mega recensione del fondotinta. Vediamo questo com'è. Lo shaker un attimino. Fa un comore strano il packaging. Forse un filino scuro, anche perché secondo me dopo ossida. Per ora applico questa quantità e poi vediamo se ne ho bisogno dell'altro. Perché come applicazione voglio provare questo nuovo pennello di Neve Cosmetics, che è uscito appunto da poco, si chiama Cushion Kabuki. Ha una scatolina esterna bellissima, molto ingombrante. E questo è il pennello, che è molto molto particolare. Infatti mi ha conquistata per questo motivo, perché non avevo mai visto nulla del genere. C'è un pelo fuori posto, comunque è molto molto compatto. Non è una spugnetta, perché dalle foto sembrava più una spugnetta. In realtà è proprio un pennello super super fitto. E in teoria bastano pochi movimenti per stendere il fondotinta. Questo è quello che dice l'azienda. Allora, non so se sbaglio io qualcosa, però sul sito non dice una vera e propria tecnica di utilizzo di questo pennello. Dice che si può utilizzare con tutti i tipi di fondotinta, con quelli in crema, liquidi. Basta applicarle un po' sul viso per poi andare con il pennello e sfumare in modo omogeneo. Ora, io ho fatto così, ma non so se avete visto durante la clip e non so se vedete adesso, io sono un po' a macchie. Cioè, in alcuni punti il fondotinta è più coprente rispetto ad altri. Tipo qui ho un accumulo di fondotinta, qui non ce l'ho. Qui ho un accumulo di fondotinta, qui è steso in modo omogeneo. È comodissimo come impugnatura. È davvero fatto molto molto bene. Però non lo so, forse queste setole troppo troppo fitte fanno un po' di strisciate e appunto non riescono a sfumare e a fondere il viso con... Eh sì, il viso... Il fondotinta con il viso. Quindi per ora devo dire che sono rimasta un po' delusa. Vado con la mia spugnetta classica a sistemare un po' la situazione. Non c'è niente da fare. Come applica il fondotinta alla spugnetta? Nessun altro. Mi piace molto di più l'effetto. Trovo che si è steso molto molto meglio che non ha fatto accumuli strani come con il pennello di neve. Vi ripeto, devo sicuramente riprovarlo. Era la prima volta che lo testavo però come prime impressioni non mi ha lasciato troppo entusiasta. Anzi, mi aspettavo molto molto di più. Mentre per quanto riguarda il fondotinta devo dire che mi piace tantissimo al momento. Lo sento parecchio idratante quindi assolutamente va fissato come fondotinta però non è andato a segnare i miei pori dilatati anzi è andato a fare un bel lavoro in quest'area sulla texture. La coprenza è medio-bassa inferiore rispetto al fondotinta più opacizzante ma ci sta del resto. Però devo dire sì l'effetto mi piace tantissimo. Bisognerà vedere la durata e non so se è grazie anche al primer ma lo vedo molto molto luminoso. Molto bello, vi ripeto. La colorazione è un filino scura. Io sono andata nel corso a mischiarlo con qualche goccina per schiarire il fondotinta di NYX perché se no era davvero tanto tanto scuro come fondotinta, come colorazione così forse ne ho aggiunte un po' troppo perché mi fanno sembrare un po' più chiara però ci sta, ecco. Sono riuscita a farlo lavorare lo stesso. Come correttore vado ad applicare il mio solito di Revolution Pro e vi lascerò nel nipbox il nome perché io l'ho messo in questo pottino dato che mi si era rotto e non mi ricordo più il nome. E lo stendo con il pennello di Zoeva il 146 Concealer Perfector che è fantastico come pennello per il correttore. Ora, come blush ne ho uno in crema nuovo tra virgolette perché in realtà sono usciti da diversi mesi nuovo per me. è questo qua di Neve Cosmetics che è lo Star System Special Effect Blush nella colorazione Strobe Berry che è questo colore qui ed è un colore meraviglioso forse leggermente luminoso forse non si nota più di tanto vado a prelevarlo direttamente dalla spugnetta perché ultimamente preferisco preferisco così con i blush in crema non vi spaventate per la quantità che ho messo perché tanto andando con la cipria al di sopra un po' si leverà per ora il colore mi piace tantissimo sono andata anche un po' sul naso perché come colore mi ricorda questo effetto finto scottato di pelle un po' bruciacchiata e mi piace tantissimo anche sul naso so che non è un trend che ha abbracciato tutti quello del blush sul naso però come vi dico sempre a me piace come tipo di effetto specialmente con queste colorazioni un po' rosate bruciate con del marrone non so il colore mi piace tantissimo ora appunto vado a fissarlo perché direi che ne ho bisogno tra il prodotto in crema e il fondotinta la mia pelle è un po' lucidina e ho preso sempre di Neve Cosmetics questa qua che è la Flat Perfection Smoothing Compact Powder Fluffy Matte non sapevo quali prendere perché non ho mai provato cipre di Neve Cosmetics ce ne sono un casino e ho preso questa perché mi sembrava un po' quella sì opacizzante ma non troppo secca almeno leggendo la descrizione è ideale al mio tipo di pelle perché appunto solitamente le cipre se sono troppo opacizzante in quest'area mi seccano da morire e preferisco evitare questa cosa quindi provo lei per la prima volta come avete visto la situazione blush è tornata alla normalità e devo dire che come ciprea mi piace davvero davvero tanto al momento l'unica cosa che forse non la abbinerei a fondotinta molto idratanti come in questo caso perché non la trovo appunto troppo opacizzante è una ciprea che probabilmente mi salverebbe in inverno con fondotinta comunque full coverage e comunque opachi perché non è per niente polverosa sul viso è andata a levigare comunque la zona dei miei pori dilatati non risulta neanche troppo pigmentata non è andata ad alterare il colore di base e davvero mi piace tantissimo l'effetto vi ripeto non con fondotinta del genere o se avete una pelle molto molto grassa perché questo fondotinta se non viene fissato va un po' a infilarsi in queste aree perché si muove molto è molto idratante più idratante dell'ultimo fondotinta di Catrice che ho provato di cui vi ho fatto il video su una pelle secca questo qua probabilmente potrebbe essere la salvezza l'unica cosa che continuo a non convincere è il packaging che è traballante questa parte qui e non capisco il motivo però come fondotinta idratante è davvero valido e la ciprea con per una pelle secca o con fondotinta opachi è davvero valida per ora mi sta piacendo come base anche il blush niente da dire comunque anche se fissato lascia un leggero scino una leggera luminosità è davvero davvero bello ora vado a fare un po' di contouring metto l'illuminante off camera e poi vi scriverò appunto cosa ho utilizzato sotto perché non ho niente di nuovo ora passiamo alle sopracciglia che voi vedete praticamente già fatte perché mi sono portata avanti ho utilizzato il nuovo prodotto di Benefit questo qua che si chiama brow micro feeling pen spero si dica così un pennarello per sopracciglia con le tre puntine con i tre dentini che io ho preso nella colorazione medium brown forse potevo prendere anche una colorazione in più però secondo me siccome a me non piacciono le sopracciglia troppo troppo scure va bene come colore ora devo prenderci un attimino la mano proprio perché era la prima volta che lo provavo e siccome le mie sopracciglia hanno una forma completamente diversa tra di loro non saranno venute anche in questo caso proprio uguali al 100% anche con questo prodotto sicuramente però la situazione è diversa rispetto a prima è migliorata specialmente nella parte iniziale del mio sopracciglio sinistro che voi dovreste vedere a destra però se non ricordo male comunque alla mia sinistra nella parte iniziale io proprio non ho peli ho un buco perché non ricrescono più le sopracciglia non so il motivo ma non ricrescono e appunto l'effetto è decisamente decisamente meglio volendo potevo ottenere anche un effetto meno intenso meno strong meno definito più naturale dovevo stare più leggera con la mano fare meno passate però devo dire che tutto sommato a me non dispiacciono tra l'altro dal vivo sembrano più simili rispetto alla videocamera non so perché la videocamera enfatizza sempre questa cosa che ho delle sopracciglia diverse non capisco il motivo comunque sì devo dire che l'effetto mi piace anche la scrivenza la comodità di utilizzo proprio per la parte iniziale lo trovo un valido prodotto devo testare la durata però per ora mi sta piacendo passiamo agli occhi ho già applicato un primer ho utilizzato quello di NYX perché ho da provare insieme a voi questa qui una delle nuove mini palette di Huda Beauty io ho preso la Kaki tra le tre disponibili il packaging è questo qui molto molto bello e all'interno presenta queste colorazioni qua che di Kaki di verde hanno poco perché di veri e propri verdi ce ne sono tre per il resto sono rosatini beggiolini marroncini avrei dato un altro nome ecco a questa palette non di certo Kaki però tra le tre disponibile è quella che più mi ha incuriosito per le colorazioni all'interno l'ultima palette di Huda che io ho acquistato è stata la Mercury mentre delle palette piccole è stata la Emerald non ho acquistato quelle precedenti della linea nude e neanche quelle pastel e anche qualcos'altro non ho acquistato delle mini quindi non vi so fare un confronto sulle precedenti con la Emerald non ha niente a che fare quindi andiamo a testare lei e basta ovviamente io volevo fare un trucco sul verde anche perché mi sono messa apposta questa tutina verde militare quindi direi che non c'è un vero e proprio colore di transizione chiaro se non questo rosatino qui direi di iniziare con lui vedere come ci sta al massimo lo copro dopo devo dire sì un po' polveroso nella cialda mentre lo prelevate con il pennello però come pigmentazione e come resa è fantastico per essere un colore chiaro si ossida un attimino una volta sulla palpebra è un pochettino più scuro rispetto a come lo si vede nella cialda però come colore è davvero davvero bello ora vado con il verde militare il protagonista di questa palette all'angolo esterno sfumandolo un po' verso la piega su questo verde in realtà non ho niente da dire se non meraviglioso inizialmente sembrava fare un po' di macchia ma dovevo solo lavorarlo dovevo solo sfumarlo perché al momento non ce n'è si è fuso molto molto bene con il colore precedente davvero risulta una bella sfumatura ma andiamo con il colore shimmer il momento della verità e vado a prendere quest'altro verde qui provo con il pennello in caso poi andrò con le dita anche lui un bellissimo bellissimo colore si è applicato bene anche con il pennello devo dire però ovviamente con le dita ha dato il meglio di sé ha fatto leggermente un po' di fallout che sono andata a togliere con il pennello della cipria e non si è attaccato niente si è tolto molto molto bene e vi ripeto l'effetto è davvero davvero bello un verde con dei riflessi dorati non so se in cam renderà mai come luminosità ci siamo ma siccome io voglio esagerare voglio ancora più luce ho deciso che applicherò al di sopra quest'altro verde voglio utilizzare tutti i verdi di questa palette con le dita lo applico un po' al centro della palpebra mobile alla fine l'ho applicato un po' ovunque ma lasciamo stare non so se vedete l'effetto diverso tra un occhio e l'altro se riuscite a percepire la differenza ma io la noto dove ho applicato questo ombretto che sembra davvero un top coat perché ha sì una base colore ma molto molto trasparente è solo molto luminoso ha donato molta più luminosità alla palpebra e ancora più verde un verde chiaro tipo ha schiarito ecco il colore al di sotto e mi piace vi ripeto molto di più l'effetto perché io amo la palpebra mobile super super luminosa davvero davvero bello come colore ora ovviamente per scurire l'angolo esterno applico questo questa paletta non ce la può fare rimanere aperta questo marrone scuro riprendo anche un po' del verde militare faccio un mix tra i due andando a sfumare il mix del marrone e del verde con l'ombretto che ho applicato sulla palpebra mobile un po' di fallout l'ho avuto dello shimmer però non dell'opaco glitterini che non si tolgono più infatti vi consiglio di fare dopo la base con questa paletta specialmente per gli shim gli opachi invece non mi hanno fatto per niente fallout e questo è il trucco che è venuto fuori per il momento devo dire che mi piace tantissimo vi ho fatto anche gli swatch della paletta non so se potete percepire al 100% però sicuramente i due shimmer della prima riga sono considerabili più top coat quello verde che abbiamo utilizzato oggi no si può tranquillamente utilizzare da solo idem quello della terza riga lo shimmer della terza riga comunque una base colore ce l'ha ovviamente bisogna vedere sull'occhio perché come vedete gli opachi specialmente i due scuri sembrano amacchie sul braccio invece una volta applicati sull'occhio lavorati sull'occhio si sono comportati bene quindi per ora è una palette che a me sta piacendo tantissimo avrei forse evitato la fila dei colori caldi che non lo so ci stanno però avrei evitato avrei messo qualcosa di un pochettino più freddo per rimanere in tema più khaki rispetto a quello che troviamo nella palette però vi ripeto come prime impressioni come resa sull'occhio non ho niente da dire niente di negativo da dirvi perché per ora gli ombretti che ho provato oggi mi sono piaciuti tutti tantissimo davvero il trucco che è venuto fuori mi piace ora vado ad applicare il mascara e utilizzo il Lush Freak di Urban Decay con un po' anche del Lush Bragg di Anastasia non mi ricordo se vi ho mai mostrato il Lush Freak all'opera questo qua di Urban comunque è quello con lo scovolino verde lime e fatto in questo modo che tutto sommato non mi fa impazzire preferisco ancora scusatemi per il casino il mio adorato Lush Bragg più che altro prende troppo prodotto lo scovolino e di conseguenza le tende ad appiccicare quindi non mi fa impazzire tantissimo e questo è l'effetto appunto del trucco occhi molto molto semplice come al solito ora passo alle labbra in realtà non ho niente di nuovo infatti penso proprio che andrò a fare dei test e poi vediamo insieme cosa ho scelto perché davvero non ho idea di cosa abbinare a questo trucco occhi alla fine ho fatto un mix tra questi due rossetti che sono il Velvet Teddy di MAC e lo 02 Marsili Nude degli If Lipstick di WeMakeup mi piacciono singolarmente ma in combo trovo che tirano fuori un nude stupendo che con questo trucco credo ci possa star bene tutto sommato comunque questo è il risultato di questo video devo dire che a me piace tantissimo quello che è venuto fuori nonostante comunque io già di base ho degli occhi verdi non so l'ombretto verde mi è sempre piaciuto su di me e anche questo trucco davvero mi fa impazzire e niente fatemi sapere voi invece nei commenti cosa ne pensate del look se vi piace se non vi piace cosa ne pensate dei prodotti se avete provato già qualcosa tra queste uscite che vi ho mostrato oppure lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto come tipologia di video perché vi ripeto a me piace tantissimo però voglio sapere anche la vostra opinione e niente noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao